Prego! Scusa, solo una cosa, se uno non paga il conto, tu che gli fai? Io direttore di questo ristorante, a clienti che non paga conto, fare occhio nero. Allora, facciamo una cosa, me le fai tutte e due nero e mi riservi un tavolo per domani sera. Sì, un momento, solo. No, 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 no. No, 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 no